Mentre sta sempre più passando il concetto dell'esistenza dell'ebook, cioè dell'esistenza del libro elettronico, della possibilità di leggere dei libri in versione elettronica su degli apparecchi portatili, che siano i tablet, che siano gli smartphone, che siano gli ebook reader, eccetera non sta ancora passando il concetto che con l'ebook si possa proporre alla lettura qualcosa che non è già stato pubblicato in formato tradizionale, ovvero qualcosa che non lo si trova in libreria. Questo è un concetto molto importante per me e per la Simonelli Editore, perché amici miei che mi seguite il 99,9% di tutte le novità che io sto pubblicando e stanno raggiungendo le mille novità online un po' in tutto il mondo oltre che su ebooks Italia, sono delle opere originali in formato elettronico, per cui, amici miei, vi consiglio di perdere quei cinque minuti di tempo per andare dentro ebooks Italia, cercare gli ebook di Simonelli Editore e guardare quante belle cose potreste leggere che non troverete altrove se non in formato elettronico. Grazie 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 Grazie